Ips noi possiamo andare a costruire delle strutture che sono più più complicate e che ci danno molta più garanzia rispetto a quello che è l'oggetto con cui stiamo lavorando. E questo ci viene concesso dal fatto che noi possiamo andare a combinare quelli che sono i nostri type. Per fare un esempio proviamo a immaginare che effettivamente il nostro utente registrato ora vada a comprare quello che è un corso. Quindi più che fare una funzione, volevo fare un type, avremo il type di corso. Il nostro corso avrà anche lui un ID, che a sua volta sarà Ridonli, poi avrà un nome, una descrizione che sarà non obbligatoria e quant'altro, è un prezzo diciamo, un prezzo che sarà un number. Dopodiché lo studente però per comparsi il corso dovrà fare comunque un pagamento. Quindi avremo da qualche parte effettivamente hype, quello che è il card details, avremo numero carta, CVV e quant'altro. Poi magari avremo type payment, che si porterà dietro quello che è un importo, quello che sono la data del pagamento e un payment ID, ad esempio. ovviamente ID, che anche a sua volta sarà Ridonli. Possiamo andare a crearci quello che è veramente un utente reale per quella che è la nostra applicazione, quindi chiamiamolo type app user. e l'app user avrà un suo Ridonli ID string, avrà un nome, avrà un cognome, avrà un ispaid e avrà ad esempio la sua mail opzionale. Dopodiché inizieremo ad avere quelli che sono gli altri elementi, card details, che è un oggetto che è opzionale, qualora però fosse opzionale dentro a dei campi che sono obbligatori. Poi avrà i suoi corsi, che appunto vanno ad essere opzionali e sono un array di corsi. Nella prossima lezione vedremo nel dettaglio le array, questo ci dà il primo spunto. Dopodiché avremo quelli che sono i suoi payments, i suoi pagamenti, che sarà un array di pagamenti. Ora questo è quello che effettivamente è il nostro user completo. Se io dovesse andare a creare appunto quello che è il mio const app user, che sarà di type app user, se io vado appunto a definirlo, ecco che avrò il mio ID manuale, il nome, la Roma, ispaid true. E lui effettivamente da questo punto in poi di per sé è soddisfatto. Una buona prassi è quella di andare a mettere subito sopra i campi che sono obbligatori e poi far seguire tutta la serie di campi che sono opzionali. Ora se io dovessi fare una funzione che si chiama const by course, in cui l'utente effettivamente va a comprare quello che è un corso banalmente, io quello che devo andare a fare è andare a controllare una serie di cose. Ad esempio, nel nostro caso, se il nostro utente non è pagante, not user dot, ispaid, quindi mettiamo a caso che la nostra piattaforma si può solo vedere se l'utente ha pagato una subscription, un colore non lo fosse, allora io faccio un bel return e la finiamo qua, non andiamo oltre questo punto. Andiamo a ritornare in questo punto e la nostra funzione si ferma effettivamente qua, poi magari andiamo a chiamare una funzione che ti porta al flusso di registrazione, che facciamo magari un window dot open e ti mandiamo a aprire un link in cui ti puoi registrare, ad esempio si può fare questa opzione, facciamo finta che noi ritorniamo e basta, oppure tiriamo fuori un errore. A questo punto se l'utente non ha quello che è user dot card details, anche in questo caso noi ritorniamo, sicuramente non ha aumento di pagamenti, quindi non potrà comprare nessun corso. Ora che queste condizioni sono finalmente soddisfatte, andiamo a giocare un pochino. Qua praticamente ci sarà un bel try catch in cui andremo a chiamare il nostro pagamento, il servizio di pagamento, quindi andremo a provare a fare magari user dot pagamenti dot push e gli andremo a pushare quello che è payment ID, una cosa a caso, un importo, una nuova data. Nel caso fallisse andremo a, in questo caso, fare un console log del nostro errore, questo non è importante. A questo punto, qualora questa operazione appunto fosse andata a buon fine, non ne possiamo andare avanti e direi che finalmente l'utente si è comprato il nostro corso. Ora, come vedete, in tutte le nostre operazioni di push, noi abbiamo questo punto, un negativo punto, che chi non lo conoscesse, questo è l'opcional chain operator, che va a provare a chiamare un metodo su degli oggetti che sono undefined. Nel caso questo fosse undefined, non verrà chiamato nessun metodo, altrimenti andrà a chiamare proprio il metodo. Questo lo fa perché lui vede che questo elemento può essere praticamente vuoto, magari non ha ancora fatto nessun pagamento, quindi lui non lo sa che sta aggiungendo al pagamento un altro nuovo pagamento. Allora, appunto, questo funzionasse, stessa cosa per i corsi, lui non sa se corsi effettivamente esista sul nostro utente, magari al momento non ha ancora comprato nessun corso, quindi a questo punto andrà ad aggiungere un valore. Ecco che, in questo modo, se io vi passassi quello che è il nostro utente, creiamoci anche un corso, const, corso, di type corso, e andiamo a creare id123, non è corso, corso di react, descrizione corso di react, e prezzo 100. A questo punto se io andassi a fare il mio buy course app.corso, quello che succederebbe è che molto probabilmente io mi fermerei esattamente in questo punto, perché l'utente non ha nessun card details, ok? Questo però mi aiuta molto a definire in maniera più corretta possibile quelle che sono le mie funzioni, vedete quante condizioni sono andato a definire che, altrimenti non mi sarebbero state effettivamente possibili. perché io qua magari dovevo aggiungere method che deve essere uguale a user dot card details dot numero card, mentre metodo qua non esiste, ciò andiamo ad aggiungere sul nostro modellino, che appunto è qua, ci andiamo a mettere method, method che, method, che deve essere una stringa. Ora, se io non avessi questo controllo, in questo punto, ecco che il mio card details potrebbe essere undefined, e lui non sarebbe soddisfatto. Posso andare a fixarlo in questo modo, ma poi dopo mi va a dire, guarda che questo metodo deve esistere, non può essere undefined, devo avere per forza una stringa. se appunto io non faccio questo check, ho che inizio ad avere questi problemi. Ed è proprio qua che vediamo la potenza effettiva di TypeScript. Non appena andiamo a lavorare con oggetti un pochino più complessi, per noi avere queste garanzie, prima che il codice venga eseguito, per noi è importantissimo, perché vi ripeto, se io qua vado a salvare, adesso avrò un delirio qua dentro. Però ecco come la nostra funzione di corso garantisce che tutto quanto effettivamente sia funzionante. Comunque io non avessi quello che effettivamente è il mio controllo, lui andrebbe a eseguire il pagamento, si beccherebbe undefined, in undefined, in metodo salverebbe undefined, e io salverei su DB in questo modo questo processo, che è una cosa che non deve in nessun modo succedere, quindi ci aiuta a prevenire questo tipo di errore. Grazie. Grazie.